Francesco Totti, 226 gol in Serie A al Mondiale Brasiliano 2014, chi lo dice? Cesare Prandelli. La svolta del commissario tecnico conferma che lo stesso è più che mai attento alle indicazioni del campionato e di fronte al monumento della Roma e del calcio italiano che non finisce di stupire, Prandelli prende atto e anticipa quella che potrebbe essere una clamorosa decisione. Ho già detto più volte che voglio lavorare con ragazzi di prospettiva, ma mi hanno colpito molto le parole di Carlo Mazzone, ha affermato il commissario tecnico. Ha detto che in queste condizioni può fare ancora la differenza in nazionale. Cosa posso dirvi? Vi dico che se la prossima estate sarà in queste condizioni di forma, non potremo non prenderlo in considerazione per il Mondiale. Speriamo soltanto di essere qualificati. L'ultima parte dell'affermazione di Prandelli è chiaramente scaramantica, comandando l'Italia il girone di qualificazione, ma fa benissimo il CT a ricordare che la certezza aritmetica di partecipare alla Mondiale 2014 deve essere ancora conquistata sul campo, a cominciare dalla partita con Malta in programma la prossima settimana. Nell'attesa Totti è stato talmente bravo da riconquistare l'attenzione del commissario tecnico e del club Italia. Il nuovo record che ha stabilito 226 gol in Serie A, che gli ha consentito di staccare Nordal, ora il suo obiettivo è raggiungere il mitico Piola, conferma ancora una volta la grandezza del capitano della Roma, che certamente, se fra un anno vivesse questo stato di grazia, meriterebbe di andare al campionato del mondo in Brasile. Prandelli ha fatto bene a sottolinearlo.